Sono sempre stata mossa dalla voglia di fare e anche mentre studiavo ho sempre lavorato. Nei primi anni 2000, quelli del boom della telefonia mobile, ho iniziato a lavorare per una multinazionale telefonica. Grazie alla mia innata predisposizione alle relazioni interpersonali ho immediatamente trovato l'ambito commerciale il più adatto a me, l'empatia e la capacità di individuare velocemente i bisogni di chi ho di fronte mi hanno aiutata a sviluppare doti di vendita efficaci. Dopo 13 anni di lavoro in grandi aziende la mia voglia di scoprire e viaggiare mi ha portata alla decisione di trasferirmi in Australia, a Sydney, con la mia famiglia. L'Australia è stato un campo di prova per affinare le mie competenze, capacità di assumersi rischi, resilienza, pazienza, tenacia e umiltà. Grazie al network che avevo creato, visti i miei studi artistici e la mia creatività, in Australia ho deciso di intraprendere un nuovo lavoro. Facevo face painting alle feste dei bambini, riuscendo a lavorare con continuità e a conciliare la mia vita personale con quella professionale. Dopo l'esperienza australiana la mia voglia di continuare a crescere, sperimentare è ancora molto forte. Ho preso coscienza delle mie competenze e so come sfruttarle in ambito professionale. Ora sono pronta ad affrontare nuove sfide e ripartire per un nuovo viaggio nel mondo del lavoro.